La politica e i 5 Stelle insistono nel 2020 in priorità alla revoca delle concessioni autostradali. La Lega invece accusa il Ministero di ritardi nei controlli. Per il PD il reddito di cittadinanza è una misura giusta ma occorre valutare la portata. Alessandro Gamberi e Mario De Pizzo. In difesa del reddito di cittadinanza e all'attacco di Atlantia, il Movimento 5 Stelle chiude l'anno indicando due battaglie prioritarie anche in vista del 2020. Il reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano. Ci hanno detto che non ce l'avremmo fatta e invece chiudiamo il 2019 con più posti di lavoro e meno 60% di povertà assoluta. E ora dopo aver abbassato le tasse per le piccole e medie imprese lavoriamo alla revoca delle concessioni ai Benetton per la sicurezza delle nostre autostrade. Il PD guarda al 2020 come all'anno della ricostruzione economica e sociale con un'attenzione particolare al divario nord-sud. Stiamo lavorando al piano per invertire la rotta, ricorda il Ministro Provenzano e i Dem ragionano anche sul reddito di cittadinanza. Una misura giusta nelle intenzioni ma bisogna sicuramente valutarne i risultati perché ancora troppe poche persone lo richiedono e non si vedono ancora i risultati in termini di lavoro. Per il Partito Democratico la priorità è investire in formazione come volano per la crescita e la riduzione delle tasse per i lavoratori. In un'intervista alla stampa Renzi attacca il reddito di cittadinanza al sud servono cantieri, non sussidi ma il Ministro Speranza lo difende, è una risposta ai bisogni dei più deboli. Intanto Beppe Grillo anticipa il suo contraddiscorso e pubblica un video dalla spiaggia mentre scava una fossa e ironizza basta paura sarà un anno meraviglioso. Dobbiamo essere ottimisti, è un futuro che ci aspetta e radioso. Le elezioni prima di danni irrabili. Salvini invoca le urne e sfida Conte. Vuole restare in politica nonostante non sia mai stato votato dagli italiani, dice l'economia va male e testimonia il fallimento del governo, insiste la Lega. Il governo litiga su tutto, un ministro se ne è andato, ne hanno fatti due. Intanto però l'economia va molto male, la notizia di oggi è che sono state aumentate le tasse per ben mezzo milione di partite IVA, così non si fa sviluppo. Berlusconi intanto prepara il rilancio di Forza Italia, incontri con i big del partito, eventuali addi non preoccupano il Cavaliere che sostiene l'alleanza di centrodestra e gli azzurri aprono un cantiere civico nelle regioni al voto. L'economia non decolla, il piano delle infrastrutture fa acqua da tutte le parti e loro pensano solo al reddito di cittadinanza. Dobbiamo andare a votare presto e riportare il centrodestra al governo. Fratelli d'Italia contesta il reddito di cittadinanza, misura costosa e di propaganda. L'unica risposta da dare agli italiani per il partito di Giorgia Meloni è il lavoro mettendo le imprese nelle condizioni di assumere.